Sono 782 in provincia di Sondrio, secondo i dati più aggiornati dei 5 centri per l'impiego di Valtellina e Valchiavenna, i beneficiari del reddito di cittadinanza. 372 nell'area del capoluogo, 250 nel Morbegnese, 91 nel Tiranese, 50 nel territorio della Valle del Mera e 19 in Alta Valtellina. Escluse invece dal sussidio economico 88 persone frequentanti i percorsi di studio, con invalidità, con un rapporto di lavoro in essere o un reddito superiore all'imposizione minima di 8.145 euro annui. 61 gli esonerati dal reddito di cittadinanza per carichi di cura, assistenza a disabili o bimbi piccoli, impegnati in corsi di formazione, tirocini o in condizioni di salute temporaneamente precarie. Il reddito di cittadinanza è stato invece sospeso a 71 persone residenti in provincia di Sondrio per assenza dell'aggiornamento ISEE, indicatore di situazione economica equivalente, che deve essere inferiore ai 9.360 euro annui. Al 31 gennaio 2020, 108 le domande decadute per varie ragioni, come variazioni del nucleo familiare o di reddito, oppure per aver comunicato l'avvio di un nuovo rapporto di lavoro. Tre infine le misure di sostegno al reddito revocate dall'Inps per non aver presentato agli uffici la documentazione richiesta inizialmente. Intanto, dopo la classificazione dei profili dei beneficiari, sta per entrare nel vivo in provincia di Sondrio l'attività di scouting. Dieci navigator al lavoro nei centri per l'impiego di Bormio, Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano, coordinati da Tiziana Rinaldi, responsabile del servizio mercato del lavoro dell'amministrazione provinciale, per contattare le aziende del territorio e sondare la disponibilità di posti di lavoro da proporre a chi percepisce la misura di sostegno al reddito. Grazie invece all'intraprendenza di alcuni beneficiari e alla disponibilità di alcune imprese ad assumere, 272 persone con i requisiti, ovvero il 35% dei percettori del reddito di cittadinanza, che sono riuscite a trovare impiego in ambito turistico, agricolo e nel settore dell'industria. La maggior parte con contratti a tempo determinato, alcuni sono riusciti a strappare dopo la prova anche contratti a tempo indeterminato.